L'io collettivo. Perché, quando facevo parte di un branco, ero capace di commettere stupri e violenze che non avrei mai commesso da solo? Commento. Perché chi compone un branco è di evoluzione affine alla media del branco. Ma l'io collettivo, chiamato branco, spinge ancora di più verso il basso l'evoluzione dei suoi componenti.